Buongiorno, è sempre ora della preghiera maritana, che vi chiamo comunale pariati, che vi chiamo in base del figlio e dello spirito santo. Amen. Ave Maria. E la grazia, signora, con te, sei diventata della regatrice, e diventata del futuro del tuo sede, Gesù. Santa Maria, la Maria di Dio, rega del mio peccato, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Maria, per te mi asciuta in cielo, e rega del mio peccato. E con divenire subito per fare sincronia contra Roma, la comunicazione è arrivata in mano, per telefono, come abbiamo il telefono, poi poi con un'e-mail che annuncia chi arriverà la morte. E l'annuncio è questo. Il Santu Padre, mi danno a Vescovo di Carmi, è il mio Castello Cenoce. in questo modo, in questo modo, il mio Castello Cenoce, sentite che il campanile ci ha sentito. in questo modo, le due diocesi, cioè i Gracie Diocesi, di Modena, di Modena e di Carmi, sono unite in persona e Vescovo. Cioè, ci sono due diocesi, che hanno un'unico Vescovo, ma solo due diocesi, con un'unico Vescovo di Carmi, che è un'unico Vescovo di Carmi, che è un'unico Vescovo di Carmi. Grazie per te, che è ben tanti, esprimo telegraticamente tre sentimenti che ho malificio. Il primo sentimento è la gioia, perché in questo anno e mezzo ho conosciuto e apprezzato Carmi Doni, tante energie, tanta generosità, spesso una sposta nella nostra chiesa di Gatti, cui prescritte le religiose, le religiose, le seminariste, le cariche, specialmente nelle famiglie, nei luoghi di lavoro, o di cultura. Il secondo sentimento è la polpa, perché in questo periodo mi sono preso conto di quali limiti oggettivi, soprattutto soggettivi, frenano il mio mistero, dei bravori, che ora di me, di venire, prendo gli occhi, passando da quella pezza, di lavoro, un contratto a tempo determinato, un contratto a tempo determinato. Don Gildo, gli altri collaboratori stretti, soffriranno, a tempo determinato, che non è un'idea di vicenda. Il terzo sentimento è la comprensione, questo, chi in questo momento è deluso, perché confidava, come per il resto anch'io, in un vescovo, dedicato alla sola croce, sui campi, mentre se ne trovo uno diviso, tra due crocesi, non sapere come potrà fare. L'auspicio è rivolto alla corresponsabilità, se si vuole all'assimilità. Spero che le molte iniziative e la grande vitalità possano essere sempre meglio continuose, perché il rischio che corriamo non è quello di fare il corpo, ma di fare in modo individualistico. e dovremo concentrarci sulle essenziali, ammaestrati anche da questa pandemia, che ci aiuta a distinguere tra ciò che è superficiale e ciò che è importante. Dovremmo lasciare da parte quali le impidiosità parloccamente. Dovremmo stare insieme e collaborare con la Diocese di Modena per individuare le mie problematiche risorse e frangenizzateci. Cominciare da chi è più fratto, più esposto, più emarginato, perché il Signore si identifica in modo speciale con le persone svantaggiate. A partire da loro dobbiamo essere appostoli in speranza. Grazie, ripartiamo insieme con l'aiuto di Maria e i nostri santi protettori per la Dio da Siena e per la Dio reale del Teatro grazie, ripartiamo insieme,